Si metteranno a fianco dei venditori abusivi sendendo altri lenzuoli esattamente uguali a quelli che gli irregolari utilizzano per vendere la loro merce. È la scelta estrema di una categoria i commercianti che da mesi denuncia la situazione di illegalità in cui si trova a Prato della Valle, che da mesi chiede controlli perché si ponga freno ad una situazione che di fatto non è più l'eccezione ma la regola, fino a lanciare un ultimatum all'amministrazione Giordani perché la polizia municipale intervenisse. Ora l'ultimatum è scaduto, ha affermato Massimiliano Pellizzari dell'Associazione Commercianti del Centro, come la loro pazienza. Ai nostri microfoni in queste settimane tutte le associazioni di categoria hanno ripetuto appelli e segnalazioni ma poco o nulla è cambiato, che non si intervenga lascia perplessi anche i padovani. Mi sembra anche facile poterli prendere, sti abusivi. Ma come mai sono ancora lì? Perché i vigili non li vogliono prendere probabilmente. Forse è così difficile perché non c'è volontà dall'alto di mandare gli ometti in divisa a prevenire questa roba qua. Siamo arrivati a un punto che si fa fatica a tornare indietro e trovare delle soluzioni. Per me ci vorrebbe una persona un po' fuori dalle righe, che magari prenda di petto la situazione. Per ora la situazione sembrano averla presa di petto. Solo i commercianti parte l'ESA di una situazione di illegalità che denunciano inascoltati da mesi.